Vincenzo da Roma, saluti anche a Marcosola, l'amico, al tuo amico, il tuo amico, al mio amico Vincenzo, il tuo amico Davide, allora io ho un pensiero stasera da dedicare, un pensiero che è dedicato allo stronzo, allo stronzo chi sarebbe? No, lo stronzo gioca un po' sul doppio senso, tu hai un pensiero da dedicare allo stronzo che sarebbe Parenzo? No, in generale, sugli stronzi? In generale, è una riflessione, hai questa voce un po' stanca, Vincenzo dai forza stronzo, ti manca la parola, molti ti somigliano, ma nessuno è come te, quando io ho seduto, accovacciato, solo con me stesso, ti sento penzolare, tentenni, esiti, ed infine ti lanci, plosso, com'è bello, stronzo, o stronzo, ti manca la parola, molti ti somigliano, ma nessuno è come te, grazie. Scusa, chi è l'autore? Lungaretti. Ah, sei tu l'autore? No, avevo capito, alla fine, Brecht. Sì, Brecht. Ma che cazzo ne so, magari nella produzione. Sì, Berto, Brecht. Allora, no, l'ho capito bene. Allora, no, l'ho capito bene.